E scarica lo rondò dopo ce le giocamo insieme Per 22 ce le giocamo il team Ma il mio gioco e io gioco Tanto c'ho il pc Bello e pronto Eh apò te è piaciuto il primo Co bello immagino per l'overall Ma anche perchè l'art riso T'ha un sancio T'ha 100k sancio pure Costano uguali Dai uno buono Vabbè dai scandaloso Scandaloso comunque Speriamo nei premi Però è Cioè hai capito che ti ho dato 200k Dei giocatori ha fatto il massimo Ha fatto e che cazzo ti ho fatto di più Capire 100k e 125 Te ce le vanno pure cagà dentro Ma poi Scusa un attimo Ma 20 ma non dovresti da almeno Almeno Due pacchi 3 tots Cazzo Mi sembra il minimo Due pacchi 3 tots a chi fa livello 1 Un minimo di più Qualcosa Il drop L'unico drop buono Era i community Poi è andato È andato a puttane Sinceramente Il gioco delle navi Sì Ah il tempo È il gioco delle navi L'undici Sì in realtà potresti Pure l'undici Ci avrebbe Forse 19 Non è come fa Il livello Come fa la top Al tempo Però Quindi l'undici Forse è un po' troppo No Grazie per il sub Giftato No Io mi sono fermato A 16 Settimane scorse Mi sono sbagliato Ho aperto subito Ho fatto apposta invece Dai Olanda No C'è Ni Almeno vale Due soldi Speravo fosse Free In pong Tazo 100.000 Xavi Simons Tazo Vale Due Credi Questo quanto vale Ti dirò Per come si è messa Meglio Ten cazzo Posso dire Manco Tazo 85 per 5 No Non è il mio account Stavo Pristoli Premi Così Messe Gira Manta Mata pure Ero 90 Vabbè A 20k Paffanculo Dai Questo Taz Daccelo Dai Uno Buono Donnarumma Che si gira Un momento Freddy Krueger Livello 1 Ottimo Bella ragazzi Vi ricordo sempre Che se siete alla ricerca Di crediti Per gli AFC 24 Scontati Veloci E sicuri Vi lascio il link In descrizione Con il codice sconto Yoshi Quindi mi raccomando Fatene ovviamente Buon uso E in maniera Intelligente Io vi do un bacione E ciao Allora Sì è crossplay In realtà Volevo Fa 11 Alla fine Amo vinte Tutte E Amo fatto 16 Mi sarebbero Tipo 9-4 Amo fatto 16-4 Interessante Vediamo Che ci da Cioè Alla fine Amo fatto Tutta sta Pippa Tutta sta Roba Vediamo Che Che C'è Dal gioco Grimaldo Vabbè Se pia Buono Stava a 2 milioni Appena uscito E Tà Pietà Che te devo dire Vabbè Uno è andato bene Rispetto al terzo Che poi C'ha tutti 90 Tipo Ammazza Mancia i razzo Vabbè Questo è mediano Dovresti provare Con il gioco D'anticipo plus Il lancio Così Ma vergogna A prima Mi ero fatto 16 Mi ha dato 3 3 Allison Mi ha dato Allison E cazzo Pure vergogna Capito Pure vergogna Grazie Mi ha dato Quella win Non mi ha fatto Quella win In più Quello sprint Mi ha dato De Bru Quello da Roma Ho capito Se faccio 4 weekend Dica Settimana Mi pare pure Normale Che da qualche Parte Picca Deveci Dovranno Usciti Da qualche Parte Man Blu Dall'ultimate Arebbe Epico No Vaffanculo Militao Un milione e mezzo Vabbè carino Ci sono 285 Vabbè Questi Manca Guardarli Guarda Ah 285 Mi ha dato Stonze Un altro 85 Ho capito Vabbè Ci sta Grazie Bei premi Quelli Scambiabili Da quelle Bei premi Non male Belli Olè 385 E il toro Lautaro 7000 Crediti Il toro Lautaro Si gira D'arriva 30.000 91 Dai andiamo a vedere Tre tozzi Quello che qui è giocato Va tutto il tempo Tre tozzi Scambiabili Immagino Quanto ci fiamo Ah Girassi Che è 90 De generale Girassi 92 Sotto Chi c'è Star 93 Chi è Il coglione Che arriviamo Cobel 94 Grazie Wow Sempre Vale Sempre La piena Falla Si si Ti preoccupa Malen Cobel Girassi Vai Allora Cobel 94 Vale 70 1000 Ah Sta range Minimo Non si vende Ho capito Va bene Poi Girassi Girassi Il grande Sedù 70.000 Pure lui Buono Ma abbiamo Sbancato 70.000 Per Girassi E Malen Quanto sta 20.000 Crediti 100k di pacco Un'altra volta Ci sta Un grande 94.000 Malen Wow Ci ho perso Crediti Facendo 16 Anche la Alla weekend League Questa qui Ho perso Crediti Anche Anche Questa settimana Per provare I giocatori Bravi Grandi Dormire Da Bar 13 Abbiamo fatto Ma è Boni Bar da Forte Boni A post Finiti i premi GG 13 win Ce ne abbiamo 3 da vincere Eh però Non si può Un po' Vincere No no Possibile Giochi che ha Gente Porco Dio C'ha Uno De Ping Mannate Pommazza Porco Dio De Mè c'ha Gente Con Uno De Ping Porca Madonna Be' premi Non c'è che dire Veramente Be' premi Ci sta Belli Se stava Per 13 win Mi sembrano Adeguati Onestamente Magari morite D'atroci Sofferenze Porca Madonna Avremo Sessi premi Del cazzo Ver 14 Ah ma C'ho Non c'ho Le doppioni Va Andiamo A vedere I picchi Che c'ho Danno Buono Dai Cobb Quasi quasi Più Anton Che almeno È 10 Forte Più Forte Boh Almeno Anton È Forte Non so Chi Pià Che dite Mallen È pure Bella Ma Non è una piastotastica Cazzo Tanto Ma Tanto Di questi Che cazzo Ci fai Scusa Ma Dato Xavi Simons Quello Che avevo Detto Oggi Se metto Xavi Simons Mi ritengo Soddisfatto Dei premi A posto Oh È Segore Ma Cos'è 5 skill Xavi Simons Sì 4-4 Magno Che Culo Allora Tu stanni I premi Dato Manca Dato Un senso Sto staccato Sto staccato Sto staccato Sì 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 18k Ah buono Poi abbiamo L'ultimate Ma dai blu Per favore E che L'ho Malato No Eh Sì Guarda La gazzetta Via Adesso Si Ripiamo Voglio Vedere Poi Per Tre Tozze Che C'è Dà Però la Cassetta FIFA 18 Quante Era Forte No 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 C'è Ma che Poi Quali sono Altri Pacchi Scambiabili Hour 385 Buono Apri Buono Blu Eh Mazza Sai che blu Ho trovato Sto polacco Se siamo presi Ah Blu Da Budi Da Buda Usceni Bernard Saga Triplo Walkout Dici Cobb E Quella 91 Perché Si può Trovar Pure Finiti Vabbè Primo Testo Tre Tozze Dai Eccolo Tapsoba Come Tapsoba In copertina Su Che cazzo Ho trovato Scusa Alma C'è 91 Ter Tre Tozze Ah E Cobb Ma Vedevano Appende Porco Dio A testa Angiù Vedevano Appende Cobb Bella Dijemi E Tapsoba Wow Bravi No no Vale sempre La pena Falli 14 Sull'account Deser Valpo Vediamo Che cazzo Trovamo L'ultimo Amico Si riesca A aprire Non vorrà Che Valpo C'ha tipo 7000 Pacchi E non Assegnati C'è una Dijemi Vabbè Vediamo Ah E mo Chi cazzo Vorrà Royce O Comanna Eh Non Lo so Io penso Rockiga Che costa Di più Anzi Pic Che gli ha Dato Royce Sta A Un Milione Ma 630 Ma Sta Solo Comanna 440 E Bu Che cazzo Ne so Royce Una Salma A Begarazzo E Bu Non so Che cazzo Via I A Bet Da Più Royce Vio C'è La fine Coman Costa 400 Mica Sarabbirà Sancho Simons Mica Cazzo Ne so Porco Come stanno Xavi Simons Sta 250 Sancho Sta 70 Mira Vabbè Io Vi ho Vi ho Sancho Simons E' Bella Che Arda Abbiamo Simons Quello L'amore Cooperato Ed è Quello Dei premi Della VL Certo Ci ho Fatta La cosa Più Bella Per i Premi Magari Trovamo Un Toz Da Qua Toz Mi pareva Free Impong Mi pareva Free Impong Poi Amo Trovati Amo Aperto Una Decina De Pacchi Però L'amo Trovati Tre Giocatori Tosti Della Bundesliga T'ho Detto Insisti E persisti Raggiungi I conquisti Via Dai Ti prego Uno Buono Bel Show Openda Appena È male E Coppel Come Te Sbagli Che 600.000 Gli ha dato E Mi sa Che È pure Forte Harta Che Carta Armagopenda Vabbè 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 Ce Potem Stà Baby Hick Discreto Tres So